Ci sono rifiuti, graffiti, mozziconi di sigarette, bottiglie di alcolici e tutti gli altri dettagli che caratterizzano il copione del degrado, segni del bivacco notturno che si ripetono quasi ogni mattina fuori dall'ambulatorio della Croce Bianca in Viena Sallirocca, costringendo il personale infermieristico a ripulire l'esterno dell'ingresso prima di accogliere gli utenti. Per favorire il decoro e fornire un servizio adeguato anche alla clientela e per tutti. Anche il personale della Croce Bianca, che si occupa di effettuare i prelievi del sangue per i residenti del quartiere e non solo, auspica più attenzione verso il decoro urbano perché la situazione rischia di diventare insostenibile. Sarebbe auspicabile minor disagio, maggiore attenzione, cura, forse del disagio giovanile. Anche alcuni piacentini segnalano la situazione di sporcizia e degrado che dalle prime ore del mattino circonda troppo spesso la zona esterna all'ambulatorio della Croce Bianca, un servizio importante e prezioso per il quartiere che secondo il personale e gli utenti non può essere minato dal bivacco. Grazie a tutti.